Il video, Edris Grescawi, partitone, gran gol, e la San Pialenese viaggia avanti, un commento sul gol e la partita Grande, una grande giornata per noi, merito dei miei compagni che sono fantastici, di tutto l'ambiente, anche di chi non c'è più, tipo Mr. Satta E' una vittoria di tutti, quindi siamo felicissimi, ora ci vediamo un momento e vediamo cosa succederà Mercoledì, un altro gol? Magari determinante? Speriamo, speriamo di vincere, di fare una partita come oggi, poi chi segna? Io quest'anno mi picchiato se faccio gol, sono fortunato, sono un paio d'anni che succede così Sto scherzando, però comunque vada, siamo stati grandi quest'anno perché siamo riusciti a ottenere l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno Quindi, niente Dedica per il gol? Allora, Dedico, il gol saranno un milione di persone, mia moglie sicuramente che mi è sempre vicino, la pizzeria ultramare, lo sciamano, tutti, tutte le persone che mi sono state vicine quest'anno È difficile perché con lavoro non riesco ad allenarmi, però è andata bene, quindi siamo tutti contenti